Ottimo, ottima scelta, ottima scelta, ottima scelta, maestro lo vuoi dare a me, maestro, lo vuoi dare a me? Sarà a strurare, questo non è buono quel fratino, è troppo alto, vedi? Io non sto dicendo sempre, non la fischi. Eh no, se cadi ti fai male, non è regolare, capisci? Non è regolare, perché ti puoi cadere. Questo fa, lo spettacolo, è questo, la festa. Eh, precisamente. L'anno scorso vi ho detto di nuovo, prank, la scalda, non è buono. L'anno scorso vi ho detto di nuovo, Grazie a tutti. 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 e a tutti. Grazie 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 a tutti. e a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. e a tutti. Grazie 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 a tutti.